La terza quadriennale d'arte nazionale, ordinata nella sede del Palazzo dell'Esposizione, è stata solennemente inaugurata da Sua Maestà il Re Imperatore, ossequiato al suo arrivo dal Presidente del Senato, Sua Eccellenza Federzoni, dal Presidente della Camera, Sua Eccellenza Costanzo Ciano, da Sua Eccellenza Bottai, dal Governatore, dal Prefetto, dal Presidente della ventesima quadriennale Senatore Conte di San Martino e dal Segretario Generale, Sua Eccellenza Oppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.